Questo è sicuro. Perché ricordati Parenzo, capire è un lusso. Però tu sostanzialmente non fai un cazzo e non vuoi fare un cazzo. Non voglio fare niente, io bevo tutto il giorno. Allora mi ha appena scritto il dottor Mario Giordano che dice conosce quelli giusti, un grande questo signor Champagne. Certo, Giordano apprezzo molto, Giordano apprezzo molto. Bravo, bravo. Però non è proprio lo stile di vita solo, Giordano lavora tutto il giorno, è il contrario di lei. Ma io non è che non rispetto i lavoratori, attenzione.